Oggi vediamo una pistola che mi ha veramente, veramente emozionato. Un'arma sbroccata. Iniziamo. Quindi, sto parlando della Liquid Cooling, una scuoldagger leggendaria che io ho ottenuto come wardrope, ma potrete ottenerla sconfiggendo l'issia, come boss dell'obelisco, al mappa quella tutta con le spiagge stile hawaiano, con le palme, eccetera. Quella opzionale, quindi. Ora, cosa fa questa pistola e perché è così forte? Innanzitutto, questa pistola è un'arma leggendaria con un danno base altissimo, L31. È 10 livelli più bassi dei nemici che state vedendo, eppure li sciotta. La sua particolarità, il suo effetto speciale, è che, come tutte le armi COV o scuoldagger, si scalda invece di avere un caricatore dopo un tot e si rompe. Ma in questo caso, quando fate un colpo critico, si raffredda. Questo vuol dire che se continuate a fare colpi critici, sia perché avete l'abilità dello stilomante, ossia perché continuate a colpire il colpo critico di un boss, avrete praticamente fire rate al massimo, danni al massimo e non smetterete di sparare, se non perché finite le munizioni o perché smettete di fare critici. Più ha delle ottime combo con lo stilomante, che può crittare a caso, anche senza dover colpire punti critici, ed è assolutamente fenomenale. Vi consiglio quindi di ottenerla se ne avete la possibilità. Grazie a tutti.